Ciao a tutti, sono Alberto Canton, lo chef del ristorante Boccon di Vino a Campo San Piero, provincia di Padova. In realtà i forni Unioxx io ho avuto la fortuna e la possibilità di usarli già da parecchi anni, oltre dieci anni e ho seguito un po' l'evoluzione anche di questi forni che si sono migliorati negli anni e come siamo cresciuti noi nella ristorazione, perché comunque la ristorazione è sempre in evoluzione, abbiamo notato che anche i forni Unioxx sono in continua evoluzione. Oggi riusciamo con queste macchine ad avere dei risultati eccezionali nel proporre anche piatti della tradizione che una volta comunque avevamo bisogno di tempi molto lunghi per poterli eseguire. Allora, come vedo il mondo della ristorazione in futuro? Sicuramente in evoluzione, io spero però si possa mantenere la cultura dei piatti della tradizione di una volta, perché è vero rivisitare un po' tutto, ma quello che non deve mai mancare è il gusto, il palato, quello che noi mettiamo in bocca e quello che noi ci ricordiamo è sempre il piatto della mamma o della nonna. Grazie. Grazie. Grazie.